A Notizie di Prato Tg. Sono ancora numeri da zona rossa, quelli di Prato, anche di queste ultime 24 ore, con 108 nuovi contagi e due vittime. Facciamo il punto nel servizio di Claudio Vannaci. Sono pratesi due delle 34 vittime del Covid in Toscana nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 84 anni di Prato e di una di 83 di Vaiano, entrambe decedute al Santo Stefano, dove erano ricoverate. Lo si ricava dal bollettino della Regione, che segnala anche 108 nuovi contagi in provincia e 914 in tutta la Toscana, numeri più bassi rispetto alle scorse settimane, ma che ancora non fanno scendere la soglia dei casi ogni 100.000 abitanti sotto 250, limite necessario per lasciare finalmente la zona rossa e approdare da sabato pomeriggio in quella arancione, come già gran parte della Toscana. Ieri sera l'incidenza pratese era risalita a 266 casi da 260 del giorno precedente e con quelli di oggi la cifra salirà ancora. Con le ultime due vittime sale invece a 457 il numero di pratesi che hanno perso la vita dopo essere stati contagiati dal coronavirus. Intanto in Toscana sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore quasi 24.000 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,91% che sale al 12,2% se si considerano solo le prime diagnosi. Migliora la situazione dei ricoveri al Santo Stefano mentre resta critica quella delle strutture intermedie, il CREAF in particolare. Per attivare altri 20 letti sono in arrivo tantissime assunzioni. Sentiamo. L'Ast Toscana Centro assumerà 5 medici, 24 operatori sociosanitari e 16 infermieri per attivare altri 20 letti al centro Covid Pegaso allestito all'ex CREAF. La ricerca di personale per questa struttura inserita in un potenziamento generale degli organici con l'ingresso di 54 osse e di 50 infermieri conferma che il sottoutilizzo dello spazio, che lo ricordiamo può arrivare fino a 192 letti mentre ad oggi ne ha attivati circa 50, è legato soprattutto alla mancanza di personale sanitario. L'impianto iniziale che prevedeva di integrare i sanitari di nuova assunzione con quelli già in servizio provenienti da altre strutture dell'Ast Toscana Centro e delle altre aziende sanitarie regionali che avrebbero usufruito di questo spazio per sgonfiare i propri ospedali, si è arenato su una coperta troppo corta per coprire il fabbisogno d'organico ordinario dei reparti Covid e delle strutture extraospedaliere. I 5 medici sono 2 oncologi e 3 gastroenterologi che al termine della pandemia saranno assegnati ai settori consoni alla propria specializzazione. Assunzione a tempo indeterminato anche per i 54 osse, mentre per i 50 infermieri il contratto è determinato a 12 mesi per implementare il centro CREAF e in generale i reparti Covid. Nella seduta congiunta delle commissioni consigliari 4 e 5 di ieri, la direttrice dell'ospedale Daniela Matarrese ha annunciato che c'è già il via libera per portare a 60 i letti al CREAF. Oggi i letti occupati sono 49 su 53. Al gran completo le altre due strutture di cura intermedie, 42 posti alla Milagrana e 23 alla palazzina dell'ex ospedale. In miglioramento la situazione del Santo Stefano con 161 ricoverati Covid in area medica su un totale di 176 posti e 17 in terapia intensiva su 20 letti. A Prato il 70% degli insegnanti risulta già vaccinato e quindi non c'è nessuna preoccupazione per l'attuale sospensione. Alessandra Grati. La decisione del governo di sospendere i vaccini per gli insegnanti e il personale ATA a Prato non ha creato protesto o perplessità, visto che circa il 70% dei lavoratori della scuola è stato vaccinato, almeno con la prima dose. L'importante, spiega Stefano Pollini, presidente provinciale dell'Associazione Dirigenti Scolastici, è che venga garantita la seconda dose. Abbiamo raggiunto una percentuale molto alta, quindi credo che non ci saranno impatti negativi sullo svolgimento dell'attività didattica. Per le scuole superiori però si chiede che gli insegnanti, che non hanno potuto ancora essere vaccinati e che sono stati nominati nelle commissioni d'esame, possano avere il vaccino. Intanto però, nonostante il prolungamento della DAD da più di un mese, continuano in contagio anche fra gli insegnanti, che stanno aspettando la seconda dose, i ragazzi e i loro familiari. Un'attenzione particolare, spiega Mario Battiato, dirigente dell'Istituto Comprensivo Gandhi, va riservata ai docenti delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo della primaria, dove i bambini frequentano per otto ore, mensa compresa. Una situazione che è sicuramente più esposta rispetto ad altre, sia perché i bambini sono piccoli ed è difficile mantenere le distanze, sia perché durante la mensa le mascherine vengono abbassate. Dall'Istituto Comprensivo Malaparte fino a Marco Poli, i dirigenti scolastici non hanno registrato particolari ramentele, né da parte degli insegnanti né dei genitori. Sono state 25 le persone multate dai carabinieri che domenica hanno interrotto due feste, una all'interno di un locale e l'altra nel garage di un'abitazione. Per tutti è scattata la multa da 400 euro per aver violato le norme anti-Covid. Il primo intervento è stato fatto in Via Ciulli, nel locale Number One, gestito da cittadini cinesi. I militari del radiomobile hanno sorpreso una dozzina di orientali intenti a intrattenersi in una festa privata. Una seconda festa, che stava svolgendosi in un garage in località alla Briglia Vaiano, a cui stavano partecipando 13 persone, è stata invece segnalata da un passante ai carabinieri della locale stazione che sono prontamente intervenuti. La polizia postale ha trovato centinaia di foto pedopornografiche nel computer di un insegnante di educazione fisica in una scuola di Pistoia. L'uomo è residente nella provincia di Prato, è stato arrestato e già scarcerato dal giudice che ha disposto soltanto la misura della sospensione dell'attività didattica. Claudio Vannacci. È stato rimesso in libertà dal giudice con la misura cautelare della sospensione dall'attività didattica all'insegnante di educazione fisica sessantenne, residente in provincia di Prato, arrestato lo scorso fine settimana dagli agenti della polizia postale di Firenze con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. In particolare i poliziotti avrebbero trovato qualche centinaio di immagini di bambini e minori fra i 10 e i 14 anni che l'uomo aveva scaricato sul proprio computer. Il sessantenne insegnante di educazione fisica in una scuola media del Pistoiese è stato denunciato dalla moglie e dal figlio che avevano scoperto le foto sul computer del congiunto. Ieri il docente è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, Francesca Scarlatti, per l'udienza di convalida dell'arresto. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere ma il giudice ha respinto la richiesta e ha disposto solo la sospensione dall'attività didattica con l'immediata scarcerazione dell'uomo. Blitz dei carabinieri di Prato insieme ai colleghi forestali e a quelli dell'ispettorato del lavoro in due aziende agricole a Grignano gestite da cittadini cinesi. Al termine del controllo tre persone sono state denunciate perché in entrambe le aziende erano occupati lavoratori irregolari in Italia e altri dipendenti senza un contratto di lavoro. Sanzionata anche l'illecita gestione dei rifiuti speciali che in alcuni casi erano stati dati alle fiamme. Oltre alla sospensione dell'attività sono state combinate complessivamente sanzioni amministrative per 25 mila euro. E ancora cronaca, tre giovani sono rimasti feriti in maniera uno in maniera seria in un incidente avvenuto poco dopo le 19.30 di ieri sulla declassata alla rotatoria con via dei Trebbi. I tre si trovavano a bordo di un'auto diretta verso Pistoia. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto le ambulanze. Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco. Tutti e tre gli occupanti sono stati trasferiti al Santo Stefano. In codice rosso un 31enne, in giallo due ragazze di 20 e 21 anni. La Polizia Municipale è poi intervenuta per effettuare i rilievi dell'incidente. Al Buzzi le nuove aule di informatica sono inclusive. Ci sono dei computer che permettono di scrivere con il solo sguardo. Alessandra Grati. Una webcamera, un'aula tecnologica è un programma speciale per permettere agli studenti che hanno problemi di mobilità agli arti di scrivere, disegnare e risolvere equazioni. In una delle tre nuove aule informatiche dell'Istituto Buzzi, realizzate col contributo della provincia, è stata attrezzata una postazione speciale. Questo è un face mouse che utilizza le capacità residue degli alunni che hanno difficoltà nel movimento degli arti. E quindi attraverso il movimento oculare si punta la lettera, in questo caso è un programma di scrittura, e si iscrive. Nelle aule gli studenti del triennio stanno lavorando anche a un nuovo progetto per la realizzazione di siti web accessibili, proprio partendo dall'indicazione e i contributi dei ragazzi con disabilità. Faceva il computer e quindi volevo vederlo più da dentro. Non solo programmi e postazioni speciali, ma anche lavagne. In realtà sono delle tavolette come un tablet o un iPad che si utilizza in rete con tutti i collegamenti software che possiamo connettere un telefono, un computer, una penna USB e queste consentono di fare, di scrivere, di andare, di navigare in rete e di fare tutte le attività didattiche come la presentazione dal singolo computer la possiamo visualizzare sullo schermo intero. La bella stagione si avvicina seppur condizionata dalle normative anti-covid, il cartellone Prato Estate è in fase di definizione. Ci saranno tra le location anche Villa Rospigliosi e il cortile di Santa Caterina. Sentiamo. Ci saranno anche il giardino di Villa Rospigliosi e la corte di Santa Caterina, tra i luoghi che ospiteranno gli eventi del cartellone della Prato Estate realizzato dall'assessorato alla cultura del Comune di Prato. A causa delle restrizioni Covid sono stati scelti luoghi all'aperto che garantiscono una maggiore presenza di pubblico nel rispetto del necessario distanziamento. Grazie alla disponibilità della proprietà della storica villa di Via Firenze, che ha concesso l'uso gratuito dei giardini, nel mese di luglio saranno ospitate otto date dedicate al jazz e alla musica classica, a cui potranno prendere parte fino a 150 persone. Il cortile di Santa Caterina torna a trasformarsi in un parco scenico dopo una ventina di anni di assenza. Ospiterà una decina di eventi teatrali a giugno e luglio. Oltre a queste due novità ci saranno l'Anfiteatro Pecci per nuovi concerti a pagamento, con una capienza di circa 240 persone, i Chiostri di San Domenico e del Duomo. Altro spazio importante di questa seconda estate di eventi culturali al tempo del Covid è Officina Jungle di Piazza dei Macelli, che lo scorso anno ha riscosso un buon successo di pubblico. Anche quest'anno si è giudicato lo spazio e fino a 20.000 euro di contributo a consuntivo, Be around the road di Raffaello Rubino con la direzione artistica di Alessandro Rubino. Al suo fianco ci sarà un ricco partenariato in cui troviamo anche Fonderia, Alive, Teatro Metro Popolare e Atto 1. La capienza ammensa va dai 200 ai 300 spettatori. Si comincia il 25 giugno e si chiude il 27 agosto. Torna anche il cinema al castello dell'Imperatore, con la speranza di riuscire ad aprire battenti già a metà giugno. Se le attuali regole saranno confermate, la capienza è di 200 persone. Bene è tutto, grazie per averci seguito. Notizie di Prato Tg torna domani alla stessa ora. Buona serata.